Antonello Venditti, Giammaico, Aico, Sabrino, Ino, oh Sabra, aspetto che il mio cuore faccia boom Venerdì 9 marzo 2012, stiamo per entrare nell'era dei pesci perché quella dell'acquario è già purtroppo andata e qui con me c'è un famoso produttore internazionale di musica dance che risponde al nome a volte di Bob Sinclair, ciao Bob Ciao, io sono dei pesci Ah, come la canzone di Antonello Venditti? No Ah, va bene, ok, perfetto, quindi tu ti senti di proprietà dei pesci? Lo sono, lo sono E quando ti sei dato all'ittica? Settimana scorsa Hai deciso di cambiare il segno perché lo spread era troppo avanti o per altri motivi? Per altri motivi che non ti dico Ok, volevo parlare con te di un amico che si chiama Giuseppe Peveri e che si fa chiamare Dente Io so che sei abbastanza preparato sull'argomento in quanto il tuo Love Generation è di chiare ispirazione dentesca Ok, allora Dente è un artista che si è formato credo alla fine degli anni 90 Inteso come agglomerato di molecole Però hai iniziato negli anni zero, i famosi anni zero, come ha detto il buon Brondi, no? E perché hai iniziato a fare musica? Eh, perché gli piaceva l'idea di farla Io che l'ho studiato so che lui sempre componeva i suoi piccoli sonetti nella sua buia stanza e poi a un certo punto questi piccoli sonetti sono diventati musichetti e sono usciti dalla sua stanza, come dicevi tu, verso la fine di questi famigerati anni zero Tutti questi vezzeggiativi, divenuti poi da sonetti a soni o a suoni per così dire erano registrati nella sua stanza ma d'un tratto, dopo Anice in bocca e Non c'è due senza te Evolvero, che è una bellissima ricercata neoforma verbale simile alla neoborocillina fra l'altro e appunto si sono evoluti e sono diventati qualcosa di più grande e da lì il grande pubblico Cosa è cambiato nel tuo amico o mentore Giuseppe Peveri in arte d'ente, caro Bob Sinclair? Ma caro Linus, devo dirti che in realtà non è cambiato proprio niente nel nostro adorato personaggio è cambiato solamente la modalità in cui registra le cose, fa le cose e si muove nelle cose e dentro le cose e fuori dalle cose e in realtà lui, dentro di lui, diciamo così, è sempre un po' il giovane ragazzo ingenuo che era una volta ecco, questo posso dirlo con certezza Ma han detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo? Questo è assolutamente vero Ok, allora capisco molte cose All'interno di un'intervista radiofonica con un tuo clone Bob Sinclair si è parlato delle origini letterarie della passione per la parola del dente pensiero che poi ricorda anche una canzone dei Pooh Puoi ricitarsene tu di persona? L'intervista l'ho sentita, l'ho sentita in streaming e posso ripetere parola per parola quello che ha detto il mio clone Nasce questo amore per la parola diciamo così, più che nasce l'amore per la parola capisce l'amore che può provare un uomo per la parola quando nelle scuole medie legge le poesie e legge le poesie, quelle ermetiche quelle dove si lavora di sottrazione e dove le poche parole mai incastrate giuste quindi non messe a cazzo ma incastrate nel modo giusto possono aprire degli scenari e delle immagini molto belle nella testa del povero bambino dente e quindi qui capisce che le parole non servono solamente per comunicare schiettamente bisogni, problemi, desideri ma anche per fare altre cose e qui gli viene come la voglia di usarle anche lui in quel modo lì e comincia a scrivere pure lui Da lì a passare alla chitarra il passo nasce naturale, nasce spontaneo anche perché lui inizialmente che poi fa rima pure con dente insomma suonava con la chitarra in mano per così dire come diceva il nostro amico Luciano Rispoli credo in una famosa canzone anni fa che era Bob Sinclair allora la chitarra poi la band la partecipazione con un brano poi edito solo dentro quella compilation progetto e ci ho messo una sbarra di mezzo anche se non si è vista perché graficamente il verbo non rende al paese reale portano la parola ad un livello superiore e portano a un certo fanatismo da parte di coloro che sono chiamati fan escludendo la parte atismo del verbo come vivi il rapporto con i fan caro Bob Sinclair come lo vivo lo vivo come uno che che ha fatto delle cose e che queste cose sono piaciute alla gente stranamente senza capire bene il perché però so che questo è successo non a tantissima gente in realtà però insomma ha molta ma non tanta so come dire forse tu hai capito per molti ma non per tutti come quel famoso vino impassato impassito vorrei dire anche questo è vero e quindi lo vivo un po' così come in modo abbastanza naturale diciamo c'è gente che viene a vedere i concerti che compra i dischi io di questo sono felice ovviamente però non è non è mai stato diciamo così un un mio punto d'arrivo quello io semplicemente parlo a nome appunto del mio assistito volevo semplicemente esprimere delle cose che non riuscivo a esprimere in un altro modo e quindi le mettevo nelle parole prima e poi nelle parole cantate dopo quando ho preso in mano la chitarra e ho detto certo queste parole che ho scritto potrebbero anche diventare delle micro canzoncine e così ho cominciato a fare canzoncine che erano molto così embrionali ecco se voi avete sentito Anice in Bocca che è il primo disco in cui le canzoni vi sembravano embrionali provate a pensare cosa scrivevo qualche anno prima forse neanche solo idee neanche embrioni ecco è anche per questo che è utile essere anti-abortisti per quanto riguarda i testi delle canzoni anche prima dell'embrione quindi ma quello che ti volevo chiedere sempre riguardo il tuo assistito dente caro Bob Sinclair quando in passato hai esercitato ha esercitato la sua arte sonora in un festival come quello della musica importante a Milano o Mostri Innamorati a Milano o insomma il Miami si può vedere una sorta di pietra miliare ogni volta che differisce dalla pietra tombale chiaramente per quello che riguarda l'esibizione appunto del buon dente ovvero sia ricordo un bellissimo finale di concerto al Miami in cui per buon appetito arrivarono sul palco un sacco di amici e come in una novella We Are The World o forse Do They Know It's Christmas ma senza Bob Geldof tutti cantavano quello che non è il ritornello vero e proprio della canzone però un po' il leitmotif di questo pezzo la coda esatto esatto e mi piace che anche tu da DJ elettronico conosca questi termini tecnici apprezzo moltissimo anche a Bob Sinclair però quest'anno invece al Miami ancora tu ti sei cimentato sul palco presentando e tu eri ecco lui era la best thing di quel concerto idealmente di quella marasma di gruppi usato in accezione positiva eri quello più un attimo sotto l'occhio di bue per così dire quello che adesso è successo è che quest'anno Dente si è esibito assieme a Maria Antonietta che è un po' la persona più in vista di questo periodo no? Si sente Dente un po' non quello che passa il testimone ma quello che in un certo senso dà anche un po' più di non credibilità non hype ma opere di bene verso altri cantanti questa cosa di Maria Antonietta non l'ho capita perché io non mi sono esibito con Maria Antonietta tu hai appena svelato di non essere Bob Sinclair allora siamo con Giuseppe Peveri qual è stato il momento più bello caro Giuseppe perché io non sono Linus qual è stato il momento più bello per te sul palco quello che ricordi di questi anni ex zero ora dieci più emozionante per te di tutto quanto dici tutto quello che è successo questa idea è una domandona difficile ce ne sono stati tanti dei momenti belli poi io vivo tutto abbastanza lasciandomi scivolare addosso le cose quindi senza ricordarmi molto delle cose che mi succedono ci sono stati dei bei momenti credo uno dei momenti che mi ricordo è stata la prima volta che sono andato al Miami nella collinetta chitarra pianoforte vocevamo in duo e lì ho visto che per la prima volta c'era della gente che conosceva le mie canzoni e che era venuta al concerto per vedermi e cantava e quello me lo ricordo molto bene poi ci sono stati altri momenti in cui appunto ho sentito tipo la prima volta che sono andato al sud a suonare a Noci provincia di Bari e anche la prima volta che sono andato in Sicilia chitarra e voce che non mi aspettavo assolutamente nulla perché ho detto vengo da Milano vado in Sicilia chi mi conoscerà mai in Sicilia e invece c'era gente che mi conosceva gente che si era fatta anche i chilometri per venire questo ho un bellissimo ricordo di quelle date fatte sempre in solitaria col trenino a girare per la Sicilia tante in realtà sono tante potrei parlarne per anni ed anni tutti questi danni fatti dal buon Giuseppe Peveri qui presente in arte dente sono riassunti in dei cerchi di plastica di 12 cm di diametro che nell'ultima incarnazione si chiamano Io tra di noi questo album quanto tempo ti ha portato via tra virgolette quanto tempo del tuo ti ha impegnato visto che eri comunque molto impegnato dall'altro fronte da un never ending tour dell'album precedente cioè l'amore non è bello ma io in realtà sono sempre impegnato su queste cose perché non posso sfuggire da me e quindi sono dente 24 ore su 24 e quindi non mi impegna neanche il tempo mi ha come dire queste canzoni mi hanno fatto fare delle cose più che impegnato del tempo mi hanno permesso di fare delle cose che sono quelle di averle scritte averle curate averle registrate e adesso suonarle in giro e quindi devo rendere grazie a queste canzoni più che dire che mi hanno portato via del tempo anzi mi hanno regalato ottimo allora io ti ringrazio e ti attendiamo sul palco e prossimamente anche su altri palchi di vita facciamolo allora ti ringrazio che tu sia Eros Ramazzotti Bob Sinclair o Giuseppe Peveri affare fatto è fatta grazie Giuseppe Peveri grazie chi mi guarda allo specchio chi si imbuca appena preso la patente